Nell'ultima partita, Osimene ed Elmas hanno aiutato il Napoli a diventare in anticipo campioni d'inverno, un traguardo importante dovuto all'ottimo inizio di stagione. Inoltre, la squadra ha beneficiato anche delle abili prestazioni di Tvika Kvarazkelia, diventata una delle principali rivelazioni della squadra e uno dei gioielli più preziosi del campionato, diamo un'occhiata. Se ami tifare Napoli e vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Kvarazkelia ha offerto una prestazione che ha superato rapidamente l'addio d'insigne. Dopo il periodo di riposo di due mesi, Kvarazkelia non è stata in grado di mantenere lo stesso livello di prestazioni che stava eseguendo. Nonostante i problemi alla schiena superati, non è ancora al top della forma e gli è mancata la lucidità negli ultimi metri. È solo questione di tempo prima che Kvarazkelia riacquisti la forma e lo splendore dei suoi primi mesi al Napoli. La prossima grande occasione per lui è la partita contro la Juventus tra pochi giorni, dove servirà un giocatore speciale per infiammare il pubblico del Napoli e mettere al sicuro più di tre punti. Ehi tifosi napoletani, avremo il giocatore Kvarazkelia un ruolo importante contro la Juve o no. Lascia il tuo commento, è molto importante per ricevere le ultime notizie dal Napoli, iscriviti subito al canale e attiva le notifiche.